Credo che all'inizio ho fatto un po' di fatica, però lo cambiamento è stato la mia mentalità, il mio comportamento, il mio atteggiamento. Quello che ho iniziato a fare fuori del campo, credo che tutto quello che sto facendo fuori campo mi sta aiutando dentro campo. Credo che il cambiamento si vede, si vede che il mio atteggiamento, il mio comportamento è la testa giusta, è la testa di un professionista e credo che questo mi sta aiutando tanto. Adesso sono contento che ho fatto questo cambiamento e sono felice che sto giocando bene, sto aiutando le mie squadre, sto aiutando i miei compagni. Sto cercando di dare il massimo ogni partita.